Ciao a tutti, vediamo in questo video tre complimenti che creano un'attrazione profonda. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra abbonamenti base per, diciamo, delle risposte per dare un sostegno al canale, per partecipare alle live, e l'abbonamento seminari, e l'abbonamento seminari online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Allora, veniamo a tre complimenti che creano un'attrazione profonda. Allora, se vuoi creare un'attrazione profonda, i complimenti possono andare bene. Sia, diciamo, che tu voglia creare un'attrazione profonda con un uomo o con una donna, però devi seguire delle linee guida, che adesso vado a indicarti. Perché se seguirei queste linee guida potrai ottenere dei risultati. Se non seguirei le linee guida, beh, difficilmente otterrai dei risultati, dei risultati, diciamo, importanti. Veniamo, veniamo al tema. Allora, il primo è, sono dei complimenti che le persone non sentono ogni giorno. Ad esempio, se lui ha dei bellissimi occhi azzurri, è inutile che gli dice, ah, che belli occhi che hai. Se lei è, che ne so, è una bella ragazza, è inutile che gli dice, ah, che sei bellissima. Se lo sentirà dire 50.000 volte al giorno. Se lui è un culturista con un fisico spaziale, è inutile che gli dice, ah, che bel fisico che hai. E perché se lo sentirà dire 250.000 volte al giorno. Quindi, questi complimenti fatti su cose che loro si sentono dire ogni giorno, no, negativi. Sono da carampana, sono da malgachò. Non vanno bene, non vanno bene. Assolutamente, negativi. Quello che devi fare, ad esempio, se vuoi fare un complimento su una foto, è non andare a cercare qualche particolare, che magari se tu, per dire, oggi nei social vedi la foto, fai un complimento su un particolare che vedi nella foto. Potresti vedere un quadro dietro, che bel quadro. Potresti, un quadro di, magari ti riesci anche a identificare l'autore, e gli fai un commento dicendo che anche tu segui quel pittore, per dire, potresti vedere un libro nella libreria, potresti vedere un libro per dire, e allora gli fai un complimento sulla scelta del libro, o su qualunque cosa, insomma, o su un particolare anche della persona, ma deve essere qualcosa che gli dice, che gli resta nella testa, perché il complimento, o la cosa detta, deve rimanere nella testa. Quindi qualcosa che non è così banale, che non è così scontato, e che in qualche modo può lasciare un segno. Ecco, quindi questa è la prima forma, diciamo, di complimento, che può funzionare, che può dare dei risultati. È importante, diciamo, utilizzare questo sistema, perché ti può apportare sicuramente dei risultati anche importanti, diciamo, in una relazione, ma deve essere fatto nel modo corretto, deve essere fatto nel modo giusto. Una seconda linea guida è quella di fare complimenti indiretti. Complimenti indiretti cosa vuol dire? Devono far venire il dubbio, no? Il complimento indiretto è un complimento su una tua scelta, perché hai fatto questa cosa, piuttosto che un'altra, che lasciano un po' il dubbio sul fatto, sarai veramente interessata a me, oppure a quella cosa. Quindi il dubbio è un qualcosa che comunque di fatto seduce, è un qualcosa che comunque di fatto coinvolge. Quindi utilizza questo sistema e vedrai che i risultati saranno sicuramente positivi e saranno sicuramente migliorativi rispetto al, diciamo, al fare un complimento invece standard, banale, diciamo, che sul, su quello che è la persona, su quello che è la persona, diciamo, un complimento diretto alla persona. E la terza linea guida è, se devi fare un complimento, fai un complimento, trova, fai focus su un tratto caratteriale, non su aspetto fisico e neanche, per quanto riguarda le donne, molti uomini fanno complimenti su aspetti fisici, no, meglio fare su un tratto caratteriale, ma invece molte donne fanno, ad esempio, complimenti agli uomini sui risultati raggiunti nella vita. Sbagliato anche. Quindi fai focus su un tratto caratteriale particolare e fai un complimento lì. Ah, mi piace il tuo carattere solare, mi piace come, diciamo, parli con le persone, mi piace il fatto che ascolti. Ecco, su una cosa di questo genere, beh, è molto meglio, molto meglio, e ti fa passare anche come una persona intelligente, non come una senza cervello decerebrata o decerebrato. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che puoi abbonarti al canale, abbonandoti con gli abbonamenti base, dare un sostenere al canale e partecipare alle live, con l'abbonamento seminario online, partecipare ai miei seminari online. In più, se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali, crescita personale, felicità benessere, Massimo Terramasco e ovviamente amore e autostima, potrai partecipare a dei gruppi dove conoscere persone interessanti, fare nuove conoscenze con persone interessanti. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!